L'Italia è un paese dove operano 1.600.000 aziende agricole che impiegano circa 405.000 lavoratori stranieri. Oggi la situazione dei diritti di questi lavoratori in agricoltura è disastrosa. Il 72% di loro non ha un contratto completamente regolare. C'è il lavoro nero dove non si dichiara nulla e c'è il lavoro grigio dove si dichiara solo una parte. E poi propria forma di schiavitù. Noi di UMUS vogliamo contrastare il lavoro irregolare in agricoltura e per farlo abbiamo deciso di ascoltare le aziende e le loro necessità. Vogliamo un lavoro agricolo sostenibile, regolare ed etico. Le difficoltà sono tante ma le risolviamo offrendo alle aziende e ai lavoratori tre servizi integrati. Il primo servizio è il matching etico. UMUS ha un database di manodopera garantita e disponibile sul territorio a lavorare in agricoltura. Il secondo servizio che offriamo è la formazione. Sono le aziende stesse a progettare i corsi insieme a noi. Il terzo servizio, il nostro fiore all'occhiello, è il job sharing. Come si può abbattere il costo della manodopera? La risposta è la condivisione. Possibile grazie ai contratti di rete. Abbiamo coinvolto oltre 50 aziende nel territorio cuneese e ora stiamo lavorando per portare il servizio in tutta Italia. Il modello funziona e vogliamo trasferirlo su una piattaforma digitale che consenta alle aziende e ai lavoratori di utilizzare i nostri servizi direttamente online. La piattaforma significa comodità, rapidità, scalabilità. Vogliamo dignità per i migranti che lavorano nei campi. E vogliamo una rete di aziende agricole forte e sostenibile. Noi di UMUS siamo pronti. La sperimentazione ha avuto successo. Ora bisogna esportare il modello e diffonderlo. Investi in UMUS. Investi in UMUS. Investi in UMUS. Per un lavoro agricolo sostenibile, regolare ed etico. Investi in UMUS. 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 Investi in UMUS.